Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come ottimizzare un disco su Windows 10 o Windows 1 quindi in questo caso come ottimizzare un disco su PC quindi ovviamente andiamo un attimo nell'esplora risorse quindi nelle nostre cartelle questo qua che vedi qua sotto esplora file andiamo direttamente su questo PC, tasto destro sopra su uno dei nostri tre dischi ovviamente poco fa ho appena liberato un po' di spazi sul disco locale chip e dare un po' di prestazioni al mio sistema operativo da 55 giga 85 giga eliminando anche vari file che non mi servivano quindi tasto destro sopra mostra opzioni proprietà vado direttamente su strumenti come puoi vedere ottimizzazione e defragmentazione dell'unità quindi in questo caso puoi fare anche un'analisi quindi vai su controlla fai un'analisi così dell'unità per vedere se ci sono degli errori e poi fai ottimizza quindi in questo caso qui posso ottimizzare i miei dischi ovviamente ne ho solamente tre disco locale C, D, E quindi vado prima sul mio SSD e vado ottimizza ok 0 giorni dall'ultima riottimizzazione volume D come puoi vedere io ho appena ottimizzato il mio volume D ha fatto la defragmentazione poi ha fatto un'altra analisi sul disco ovviamente non devi usare il disco che sta facendo l'ottimizzazione se no su gestione attività come puoi vedere prestazioni qua ci sono tutti i nostri dischi quindi sul volume D qua mi era arrivato al 100% perché stava facendo la defragmentazione grazie alla nostra defragmentazione quindi quando fai l'ottimizzazione non usare il tuo disco se no quando arriva al 100% non puoi né giocare né aprire applicazione né copiare o spostare i file poi sul volume D possiamo fare sempre ottimizza ok 0 giorni dall'ultima riottimizzazione e visualizzazione avanzata quella è più necessaria quindi questa mai eseguita quindi ottimizzazione non disponibile quindi non me lo fa fare prima a me qui c'era scritto ottimizzazione necessaria quindi ho ottimizzato così il disco stessa cosa anche con quest'altro e una volta fatto faccio chiudere e chiudo qua in questo caso se c'è gestione disco sicurezza vado direttamente a scrivere qui disc pulizia disco unità C e vado a vedere se devo eliminare delle cose sul nostro quindi sul mio volume C e faccio ok ed eccoli qua file temporanei internet che esce di DirectX poi c'è gestino file temporanei file di ottimizzazione recapito e faccio ok eliminazione file una volta fatto puoi farlo su tutti i dischi che hai nel tuo pc quindi pulizia disco volume D vediamo se sul volume D c'è qualcosa non c'è niente pulizia file di sistema volume E proviamo a vedere qui non c'è niente e basta in questo caso se non ci basta possiamo sempre andare su tasto Windows sulla tastiera più R aprendo così la schedina esegui fai esegui e scrivi per cento app data per cento qua mi sono ritrovato 16 gigabyte di immondizia di giochi che non avevo comprato quindi non so se mi avete capito giochi che non ho comprato quindi che avevo scaricato così per provarli e quando li ho cancellati mi sono rimaste varie cache e altri file nella sua cartella di app data quindi mi sono ritrovato tra i 16-20 gigabyte di immondizia qua dentro e vado su app data vado su local scendi fino a giù devi controllare ogni singola cartella per esempio di un gioco un'applicazione o di qualsiasi cosa che hai scaricato e la hai disinstallata la cartella rimarrà qua dentro quindi se non ti servirà più quel gioco o quell'applicazione elimina quella cartella lo fai su app data local app data roaming e vedi se ci sono delle cartelle che non ti servono più che sono collegate a quei programmi che hai disinstallato come questo qua che io non so tunnel bear telegram desktop sono 498 megabyte ovviamente io uso telegram pure ulc winmode winrar questa è una cartella vuota riot client questo non lo uso più tutti i project obs studio che sto registrando quindi sono 749 megabyte con tante cose dentro e invidia now tv player non lo uso e basta una volta fatto svuoti pure il cestino in questo caso se andiamo di nuovo su mostra attropozioni proprietà vai su strumenti ottimizza modifiche impostazioni ed eccolo qua esegui in base a una pianificazione scelta consigliata frequenza ogni giorno quindi andrà a fare l'ottimizzazione ai dischi ogni giorno da solo quindi in questo caso se ti ritrovi a giocare su un disco e all'improvviso fa l'ottimizzazione cominci a laggare nel gioco perché sta avendo l'ottimizzazione quindi sta facendo anche la deframmentazione quindi il tuo disco sta arrivando al 100% e non puoi utilizzarlo per un bel po' perché sta facendo la deframmentazione quindi ti consiglio di farlo ogni settimana mai ogni mese ogni settimana aumenta la priorità dell'attività in caso di tre esecuzioni pianificate consecutive non non me lo fa più leggere scegli no eccoli qua ottimizzazione automatica a nove unità e metto tutte e tre e basta quindi se questo video ti è stato utilissimo su come ottimizzare i dischi su Windows 11 Windows 10 su PC quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao